Il ponte dell'8 dicembre è stato caratterizzato da una serie di perturbazioni, pioggia in pianura, neve in alta montagna. Ci troviamo all'interno dell'osservatorio geofisico dell'Università di Modena, Luca Lombroso. Allora, quanta pioggia e quanta neve sta scendendo ed è scesa nelle nostre zone? Dunque, neve, notizie precise noi non ne abbiamo, comunque so che dall'incirca sul nostro appennino le quote più alte dovrebbero essere sui 30-40 cm. Pioggia a Modena città, tanta, veramente tanta, se pensiamo che da sabato oggi già oltre 120 mm, più del doppio di quello che normalmente può piovere in dicembre. E solo ieri 60 mm, che è un valore quasi eccezionale per il mese di dicembre. E con questa perturbazione come è nata? Questa perturbazione, ecco, vediamo qui alcune immagini ricevute dal satellite Metro Sat4, è stata originata da una perturbazione atlantica ancora nella giornata di lunedì che è entrata dalla valle del Rodano nel Mediterraneo. L'aria fredda ha originato la classica depressione di stampa autunnale che dà luogo a questa circolazione di tipo vorticoso, quindi le nubi continuano a girare intorno a un centro d'azione con incentivazione delle precipitazioni per gli effetti orografici, cioè là le nubi si arricchiscono ulteriormente di pioggia passando sui mari setentrionali, incanalandosi da sud-sud-est lungo l'Apennino e con un effetto orografico che è tipico proprio della provincia di Modena. Ecco, ma questa perturbazione per quanto tempo rimarrà sulle nostre zone? Ancora per le prossime 24 o anche 48 ore avremo piogge continue, estese e a tratti anche intense, ancora nevicate oltre mille metri, gradatamente anche le neve a quote più basse, occasionalmente magari nella giornata di domani qualche fiocchettino, ma roba da poco potrebbe fare la comparsa anche in città.